Una mattinata all'insegna del ricordo. La S Roma Primavera, la squadra giovanile della società giallorossa, ha fatto visita al cimitero di Castellabate per ricordare l'indimenticabile capitano giallorosso Agostino Di Bartolomei. La formazione capitolina, reduce dal successo in finale di Coppa Italia Primavera nello stadio Arechi di Salerno contro la Fiorentina, ha vissuto un momento di grande emozione. La squadra, infatti, e tutta la società ha deciso di dedicare una parte del suo tempo a rendere omaggio a un grande campione della storia della Roma, Agostino Di Bartolomei, scomparso tragicamente 28 anni fa, il 30 maggio del 1994. Nonostante la sua scomparsa prematura, l'eredità di Agostino Di Bartolomei vive ancora oggi nella memoria dei tifosi della Roma e di tutti quelli del calcio italiano. La sua carriera, che lo ha visto militare per anni nella squadra capitolina e poi anche in altre formazioni blasonate come Milan e Salernitana, è stata segnata da grandi successi e da un attaccamento profondo alla maglia giallorossa. Dopo la sua morte, la Roma ha dedicato a Di Bartolomei diverse iniziative commemorative, come la denominazione del campo del centro sportivo di Trigoria. La visita al cimitero è stata solamente il primo gesto di affetto e gratitudine della Roma Primavera nei confronti di Di Bartolomei. Successivamente, infatti, la squadra si è diretta verso la casa del campione, dove è stata accolta dalla moglie Marisa. Un momento di grande emozione in cui i giovani calciatori hanno potuto conoscere da vicino la storia e l'eredità lasciata ad Agostino, che è stato un simbolo della Roma e del calcio italiano. Questa visita, che ha toccato alti momenti significativi, ha visto la partecipazione dell'amministrazione comunale e di una delegazione della Polisportiva Santa Maria.